Onorevole, salta la pacificazione significa che salta il governo? Sul governo bisogna vedere. Quello che è grave è che c'è stato l'ennesimo uso politico della giustizia che è assolutamente clamoroso. Nel senso che su un processo indiziario sono stati incriminati addirittura 30 testimoni che hanno contraddetto le tesi prima della procura e poi della magistratura giudicante. Quindi ci troviamo di fronte ad una operazione chiaramente strumentale. Questo significa un vulnus rispetto ad un'ipotesi di pacificazione fra gli opposti schieramenti che ha caratterizzato la vita politica del nostro Paese dal 1994 ad oggi. E' da vedere, siccome sappiamo benissimo che questo attacco a Berlusconi è un attacco anche all'attuale quadro politico e non ha la corresponsabilità certamente del Presidente del Consiglio che sta su altre ipotesi, è da vedere se, diciamo così, sarà possibile continuare un percorso per quello che riguarda la politica economica e interventi in altri settori del quadro istituzionale oppure se c'è una resa dei conti più profonda. Questo dipende anche dalla linea e dal comportamento del Partito Democratico. Però non c'è dubbio che si sta cercando di far saltare il tavolo. Napoletano parla di fibrillazione. Il PDL è sentente chiamato in causa? In causa vanno chiamati quei magistrati che stanno facendo politica e che determinano qualcosa di più rilevante, di più profondo che non il termine fibrillazione che può essere dedicato a cose superficiali. Ma in effetti se noi andiamo al fondo delle cose vediamo che il probabile fallimento della Seconda Repubblica discende appunto da questo uso ripetuto della giustizia che ha radicalizzato lo scontro sulla base di una criminalizzazione nei confronti di Berlusconi determinata, essendo egli il leader di uno schieramento politico, a avere sempre conseguenze politiche.